In questo video vi darò solo degli aggiornamenti sul mio canale Ok, vi devo dire che ho cambiato il nome del canale Da Alessio Corbo a Finchi108 Però nei commenti non potranno sia chiamarmi Alessio che Finchi Mi sono creato una sigla mia remixata Poi ho altre due canali che mi potete pure seguire Alessio Corbo Games e A.S. Roma Allora, vi metto il link in descrizione se volete Sì, vi metto il link in descrizione Chiaramente, credo, che sto facendo con YouTube Capture Perciò questa qua è una cosa veloce Beh, che dire, grazie per il successo Vi ho avuto il mio video di scherzo telefonico Ringrazio tutti quelli che mi seguono Che tutto fare Che è uno delle persone a cui tengo molto Perché vi dà molto sostegno Mette mi piace, commenta Poi vi saluto pure Giorgio da Gobbi E... Il vostro sarebbe Xper Favij E poi Lo saluto Come si chiama? Golden Jumpy Chiaramente Perché io questi qua li seguo tutti Li seguo tutti Sono i miei canali preferiti Tutti saluto Tutti quelli che mi seguono E tutti quelli che seguo io Ok, questo video era solo un aggiornamento E ci vediamo al prossimo video Che sarà un altro scherzo telefonico Ciao Ciao